come va e ben tornati sul mio canale come sempre ricordatevi di iscrivervi qui sotto di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità metto un po più così ecco così così allora facciamo un video unboxing una cosa del genere un haul non mi ricordo e di un po di cosine perché ce l'ho qui da un po di tempo e niente se no poi mi dimentico che ce le ho come è successo che adesso ho comprato due pezzi uguali perché l'altra ce l'avevo già era già lì da un po devo farlo 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 alla fine ci ho avuto altre 8.000 cose da fare e mi sono dimenticato così sono andato d'articolità e l'ho ricomprato uguale adesso ne ho due vabbè che roba che uso però scoccio un attimino ecco buttare via un po i soldi prima del tempo perché sapete non è che ultimamente i soldi crescono sul sulle piante e allora scoccia un pochino e va bene che non costa caro però va bene che lo userò però però vabbè mi scocciava sto fatto che ce l'avevo lì e alla fine l'ho dovuto ricomprare due volte ma partiamo subito dalla prima cosa è un ordinino che ho fatto da amazon l'ho già aperto perché una cosa mi serviva subito ed era un cavetto per collegare il telefonino al televisore di modo che io praticamente potessi tutto quello che vedo dal telefono lo potevo vedere anche dal televisore avevo già comprato un cavo anni fa solo che ovviamente qua le solite cose che ricambiano lo spinotto del telefonino il cavo che avevo andava bene per i vecchi telefonini gli altri telefonini quelli con quella con quella presa piatta quasi rettangolare adesso sono tutti con quella presa un po arrotondata su sui bordi sapete i telefonini hanno quelle che si carica con quella presa un po un po piatta un po arrotondata nei bordi e invece quelli l'erano quelli fatti a chiusi fatti con l'angolo e insomma ce n'è sempre una ti obbligano comunque a spendere anche lì soldi inutilmente perché sinceramente un cavo che cosa 19 euro e andava bene con mi funzionava solo che poi ovviamente è cambiato il telefono e quant'altro è cambiato anche la presa e adesso devi ricomprare tutto quanto è quindi altri soldi no cioè per la serie qua siamo tutti scemi e un bel momento ti obbligano praticamente a fare le cose cioè ti obbligano a cambiare telefoni ti obbligano a cambiare televisori ti obbligano a cambiare questo ti obbligano a cambiare la stufa ti obbligano a cambiare la macchina praticamente ti obbligano a fare tutto e tu sei lì in balia del vento così o così cioè se tu non lo fai praticamente non puoi più fare niente perché tu vuoi vedere il telefono sul televisore alla fine se non prendi 20 euro di cavo e non puoi più vedere il telefono sul televisore alla fine cosa ho dovuto fare che col cavo lì non andava bene perché non 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 si collegava col televisore quello che avevo prima era un cavo rosso funzionava ma non va più bene per questo telefono e alla fine ho dovuto prendere un'altra cosa quindi ho dovuto spendere altri 20 cioè restituire quel cavetto ok te lo rimborsano tutto quello che vuoi ok mi sta tutto bene però alla fine devo spendere altri 30 euro per fare un'altra cosa poi vabbè quando arriverà tra 4 5 giorni arriverà questa cosa qualche ordinato poi ve la faccio ve la faccio vedere però mi scocciava perché anche quella ce l'avevo già poi un bel momento hanno deciso di fare degli aggiornamenti e quindi chissà perché quello lì non andava più bene si aggiorna tutto ma quello non andava bene quindi alla fine quello a fare lì preso e anche quello buttato nell'immondizia perché c'è mi è proprio arrivato un messaggio che ho scritto dal settembre 2019 una roba del genere 2021 settembre anno a luglio 2022 una roba del genere l'apparecchio qua non funzionerà più così cioè tu hai speso appena spena tipo 40 euro tipo due anni prima no due anni dopo non funziona fine come si dice no così altri 34 euro da spende ogni due anni c'è praticamente un nuovo a me queste cose mi danno tremendamente fastidio ah sì volevo farvi vedere la presa vedete la presa dei nuovi telefoni e quella fatta così la vedete qua non so se si vede no da qua si vede meglio vedete che è fatta un po un po un po rotondeggiante sui bordi no qua è un po rotondo sui bordi invece le prese vecchie adesso qua non ce l'ho le prese vecchie non sono rotondeggianti ma erano fatte avevano non erano curve ma avevano uno spigolo queste qua sono quelle nuove il mio cavetto era era fatto con gli spigoli adesso qua tutto con le curve anche qua anche qua per ascoltare le cuffie ti fanno i telefoni senza la presa per le cuffie una volta vi ricordate c'erano quelle stupende prese nel telefono dove tu infilavi questa presa qui e ti ci potevi ascoltare le cuffie giusto no adesso per risparmiare soldi hanno tolto questa presa qua devi comprare un cavo tipo questo questo così praticamente dove c'è qua lo infili nel telefono così poi da una parte ci metti il caricatore così si si carica il telefono e dall'altra vedete ci sono due e dall'altra parte di qua ci metti la presa dell'auricolare questa qua così ecco infili così ecco quindi alla fine ti ritrovi sto pacciocco qui così semplicemente perché i produttori dei telefoni hanno deciso di non mettere più la spina quindi tu devi spendere perché sta sta cavolata qua sto sto coso qua costa almeno 6 7 euro penso un pezzo di di cavo 7 euro che poi voglio dire prodotto in cina ma voglio dire no cioè che all'origine costerebbe 50 centesimi in quanto lo vendono a 6 7 euro certo immagina un po quanto ci straguadagna queste cose mi danno tremendamente e fastidio ma andiamo avanti con il nostro pacchettino amazon ordinato ordinato questa custodia è custodia questa pellicola per il cellulare perché quella che oggi non posso farvi vedere ma sia tutta strappata bucata insomma un casino e siccome che questo telefono qua è quello lì che si piega a metà si piega a metà non posso mettere una la pellicola quella rigida devo prendere una pellicola morbida questo articolo qua lo trovate anche nel mio nella mia vetrinetta online su amazon poi qui sotto nella info box vi lascio il collegamento così se vi interessa potete andarlo a vedere oltre a tutti gli altri articoli che ho allora così si presenta si presenta così abbiamo acqua c'è lo straccetto per pulire qua c'è lo straccetto per pulire poi cosa abbiamo abbiamo qua le le istruzioni va bene la solita spatolina rigida questa qua per trascinare la pellicola questo non so cosa sia questa cosa qua ah sì il vetro il vetrino trasparente per la fotocamera perché avendo la fotocamera posteriore qua c'è ce n'è due sono due vetrini adesso non si vedono ma c'è un vetrino qua c'è un vetrino trasparente qua quindi abbiamo due vetrini poi questo affare qua che non so cosa serva non so che cosa serva questo affare qua fatto così e poi cosa abbiamo ah e poi ovviamente le due le due pellicole di plastica semi trasparente semi rigida vedi vedi che si piega perché il mio telefono si piega a metà quindi quindi in realtà perché fatto così ah sì ok si vedi che si piega questa pellicola ok si vabbè poi si attacca al telefono ne avevo già comprata una un paio di anni fa appena avevo comprato il telefono avevo fatto un video qua su youtube e poi eventualmente ci facciamo un piccolo tutorial adesso qua non ho capito bene cosa mi rappresenta sto toccoso toccoso qua installo fascist holder cosa vuol dire installo fascist holder installo fascist holder holder scusane ah si attacca a ok si mette qua così poi boh per sì ho capito ok si attacca qua sono dei buchi ho fatto così lo incastri qua lo incastri lì poi quando l'hai messo sul telefono fai trick e viene via vabbè 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 poi vediamo poi vediamo ci facciamo un tutorial non so vediamo un attimino se ci riesco che farei tutorial di mettere queste pellicole poi è un casino è un casino sempre comunque vediamo un po' scritto in che lingua da una parte c'è in inglese e dall'altra parte c'è in inglese e via boh e questo è uno e questo è uno per te che mi fumo via aspetta ne ok poi l'altra cosa che volevo farvi vedere è questo per i bioma un dentifricio io lo uso tantissimo ne ho appena finito ne ho appena finito uno non so dove mettermi sia a destra o a sinistra dappena qua ci sono le istruzioni vabbè ma questa ve l'avevo già fatta vedere qua ci sono praticamente le istruzioni poi ti dicono tutti i dentifrici che hanno quant'altro tutto molto carino è così eccolo qua io mi ci trovo veramente molto molto bene veramente molto bene anzi adesso faccio che tirarlo fuori già dalla confezione quanto è questo è 75 ml 75 ml bio repair io ve lo consiglio consiglio l'ho preso ovviamente da pigota e l'ho pagato la bellezza di 3 euro e 88 non mi ricordo se era in offerta non credo fosse in offerta non credo proprio poi ho preso questo questo artiglio del diavolo articolazioni bruciori infiammazioni dolori vari sono della matte ci trovo molto bene con questa marca qua sono 50 compresse qua dice qua dice due volte al giorno due compresse due volte al giorno quindi se sono 50 diviso 2 sono 25 in teoria dopo 12 giorni una roba del genere no è ma più o meno 10 12 giorni più o meno siamo lì io diciamo ne prendo e questo qua non era in offerta anche e lo artiglio del diavolo costa costa 8 euro e 30 con iva al 10 partiglio del diavolo ho ripreso queste vitamine b queste vitamine b dell'angelica l'avevo già presi non so non mi sembra che abbia fatto chissà grandi quali grandi miracoli l'ho preso solo perché mi veniva comodo che erano lì o stare lì a comprare online destra a sinistra cose amazon amazon farmacie online non avevo voglia di fare tutta sta menata fai l'ordine metti la spedizione metti la carta aspetta la spedizione 3 giorni arriva spettacolio c'è tutta menata pazzesca che duballe e allora queste qua anche queste non erano in offerta costano 5 euro e 65 5 65 poi ho ripreso questa la carta igienica quella sensitive speedy care quella quella loro quella che costa meno sono 50 salviette umidificate con aloe e camomilla gettabile nel pc io mi ci trovo veramente bene qua non devo stare a spiegarvi niente sappiamo benissimo come funziona la carta igienica e questa qua è quella più economica che hanno perché ne hanno di tutte le marche prezzi e colori però questa qua della speedy care speedy care qua 50 salviette costa un euro e 99 poi l'articolo che ho preso due volte è questo questo just for man io uso h25 io uso h25 just for man cassano chiaro l'avevo preso tipo due settimane fa mi ero dimenticato che l'avevo comprato e l'ho ricomprato questo qua costa 6 euro e 95 5 minuti di posa e il gioco è fatto si leva facilmente non macchiano da grossi problemi cinque minuti di traffico e buona notte a secchio e vedi che alla fine ne ho comprati due e vabbè anche li uso una volta al mese però in gira un po le scatole perché ecco 6 euro e 95 poi come solito avevo altri qui o altri prodottini che volevo farvi vedere che ho finito ma siamo già arrivati a 16 minuti e passa di video quindi certo punto credo che ve li rimando poi al prossimo al prossimo giro e via ho perso il brillantino dell'orecchino oggi non so dove è finito sicuramente si è staccato stando nel letto e mi gira le scatole perché anche questi ultimamente sembra che fa una fatica a trovare questi orecchini coi brillanti sono quegli orecchini lì che me li chiamano i punti luci o non so quali come li chiamano anche questo mi scoccia perché sono difficili da trovare e quando li compri in oreficeria minimo 30 40 euro per una roba e io li compravo sempre da da piume non so piume ce li aveva anche i capelli spilenchi e adesso non so perché ma non li tiene più quindi non riesco più a trovarli non so comprarli online beh veramente spendere sento un rumore spendere 5 6 euro poi alla fine tra la spedizione tutto cioè arrivare di nuovo 10 euro cioè allora dico vabbè quando capita che li trovo li compro se no almeno sto senza o tengo così va bene allora io ho finito le altre cose ve le faccio vedere la prossima volta vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto di attivare anche la campanellina e noi ci vediamo prossimamente a presto ciao